Musica Nel fine settimana i carabinieri della Compagnia di Breno hanno riproposto un servizio di controllo straordinario del territorio che ha interessato l'intera Valle Camonica. A Borno i militari della locale stazione hanno arrestato un pregiudicato quarantenne trovato in possesso di 20 grammi di fumo. L'uomo è una vecchia conoscenza dei militari che negli ultimi mesi lo avevano arrestato già due volte dopo averlo trovato in possesso di diverse dosi di cocaina. Nel pomeriggio di venerdì 7 agosto i carabinieri hanno aspettato che uscisse di casa, lo hanno fermato e sottoposto a perquisizione. Nella sua camera da letto hanno trovato una ventina di grammi di hashish, materiale per confezionare le dosi e una serie di appunti sugli incassi dello spaccio. L'arresto è stato convalidato e per il quarantenne è stato disposto l'obbligo di firma giornaliero. L'attività di controllo sulle principali vie di comunicazione tra la bassa e l'alta Valle Camonica e nei centri montani nei quali in questi giorni sono presenti numerosi turisti, improntata anche a evitare assembramenti e rispetto delle attuali restrizioni rispetto all'emergenza Covid, ha consentito di eseguire mirate ispezioni ai locali più frequentati soprattutto dai giovani. Diversi automobilisti sottoposti a controllo con l'etilometro. Ad Arfo sono state ritirate due patenti di guida nella notte tra sabato e domenica. Sono risultati positivi e segnalati alla procura di Brescia un 23enne e un 19enne, che risultavano avere rispettivamente un tasso di 1,33 e 1,12 grammi litro. Sono stati invece sanzionati amministrativamente due neopatentati. Sempre a Borno è dovuta intervenire una pattuglia per prestare soccorso a due minori di 15 anni che avevano alzato il gomito e che erano sdraiati su una panchina. Sono stati riaffidati ai loro genitori e questo sabato notte molte ragazze nella Bergamasca sono finite in ospedale per intossicazione etilica. Nell'arco di tre ore, da mezzanotte alle tre, sono state chiamate le ambulanze a Ciserano per due 14 anni, a Presezzo per una 21enne portata all'ospedale di Bergamo in codice giallo e per tre ragazze di 16, 17 e 18 anni che da Orio al Serio sono state soccorse e portate al Bolognini di Seriate, infine per un giovane di 26 anni che si è sentito male a Stezzano.